Ti vedo scossa! Sì, sono sconvolta! Ho bisogno di staccare la spina! Franca, è una bugiarda! Sei sincero? Sì, te lo dico, francamente! Perché porti con te sempre tanti libri? Perché sono co-libri! Prof, adesso le faccio io una domanda! Qual è l'ultima lettera dell'alfabeto? Ma che domanda, è la Z! Sbagliato, è la O! Perché sei triste? Faccio una vitaccia! Amore, sono incinta di te! Impossibile, io sono nato già da molto tempo! Cerco di farmi notare da te, ma tu non mi calcoli! Com'è andato l'esame? Ho preso 10! Bravo! Papà, faccio l'università, non le superiori! Ciao, puzzetta! Mi hanno detto che non hai mai paura! Eh sì, sono molto correggiosa! Ciao, di dove sei? Como? De donde eres? Il 4 ottobre uscirà il libro Sfida all'ultima battuta! Quindi? Non sto più nella pelle! Da giovane ero povero, ma dopo anni di duro lavoro non sono più giovane! C'è qualcosa che non ti piace del rugby? Sì, quando qualcuno mi placca! Per cena farò il brodo! Non mi va, puoi fare altro? No, ormai il dado è tratto! Tu non sei una scarpa, ma una sarpa! Perché? Perché non hai l'AC! È esplosa una fabbrica di deodoranti! Dove? No, Neutro Roberts! Bevo la ho-ha-ho-la! Parli fiorentino? Sì, sono un sigaro toscano! Di dove sei? Chieti! Di dove sei? Te l'ho detto! Di chieti! Io chieto, ma tu non rispondi! Io sono un quadrato! Io sono un cerchio! Io sono un rombo! Brrrrrrrrm! Spesso nelle canzoni latino-americane dicono Vamos a bailar! O Vamos a cantar! E allora io mi chiedo Ma quante cose sa fare questo vamo? Sei veramente un grande ipocrita! Per forza, sono un bigotto! Come mai sei triste? Ho prestato 10.000 euro a mio amico Per farsi la plastica facciale! E allora? Non so più chi sia! Chi ha fatto fuori Kenny? Nico, Buddy o Loco? Verniciavo casa! Mangiavo gelati! Combattevo nemici! Ciao amiche e amici! Oggi vi leggerò le battute in copertina del mio nuovo libro Sfida all'ultima battuta! Perché Pomodoro non attraversa la strada? Perché è rosso! E questa è la gag nel retro! Ci hanno detto di venire da te! Chi vi manda? Rino? Che spettacolo! Guardate che bello! Un libro di 167 pagine a colori Dove troverete tantissime battute Collegate da una storia avvincente Che parla di amicizia, amore e combattimenti Preordinatelo subito su Amazon Così sarete sicuri di avere la vostra copia per il 4 ottobre E soprattutto perché avrete in regalo un esclusivo poster Ciao! 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 Grazie a tutti.